vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org con la festa di cristo re si rinnova la consacrazione del genere umano al sacro cuore di gesù affinché egli solo abbia regnare sulle intelligenze sui cuori e sulle volontà delle genti regno di verità e di vita regno di santità e di grazia regno di giustizia di amore e di pace l'ultima domenica del mese di ottobre secondo il calendario tradizionale la liturgia celebra la festa di cristo re la data mobile scelta dallo stesso papa che ha istituito la festa ovvero più undicesimo è stata individuata in quanto prossima la solennità di tutti i santi che del re eterno costituiscono le letta corte l'anno liturgico celebra già la regalità di cristo in altre occasioni l'epifania per esempio altro non è che il manifestarsi a tutte le genti di cristo come dio re e redentore altre feste come quella del sacro cuore di gesù richiamano la signoria di cristo sulle genti e sui cuori ma l'istituzione di una celebrazione votata ad esaltare principalmente l'aspetto legale di cristo fu voluta da pio undicesimo per contrastare una vera e propria pestilenza ideologica che ieri come oggi va sotto il nome di laicismo in tale festa per volontà del medesimo pontefice si rinnova la consacrazione del genere umano al sacro cuore di gesù affinché egli solo abbia regnare sulle intelligenze sui cuori e sulle volontà di tutte le genti i testi dell'antifone e delle preghiere della messa del giorno ben riassumono l'insegnamento della chiesa sulla regalità sociale di nostro signore gesù cristo dal resto nella liturgia si prega quello che si professa come verità l'antifona ad introitum apre il sacro rito proiettando la regalità di cristo nel cielo circondato all'onore perpetuo tributato gli dalle schiere dei santi e dei martiri quella gloria che gli uomini redenti dal sangue prezioso dell'agnello immolato hanno il dovere di esprimere già qui sulla terra con una retta condotta di vita e con il pubblico rispetto nei confronti della chiesa e della religione cattolica il testo giustamente tratto dal libro dell'apocalisse così recita l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere la potenza la divinità la sapienza la fortezza e l'onore a lui la gloria e il potere nei secoli dei secoli quest'ultimo aspetto quello del dovere di sottomettere corpo e anima al suave gioco di cristo è ribadito con efficacia nell'orazione colletta cristo costituito re universale a motivo dell'unione ipostatica e della sua immolazione sulla croce possiede un diritto costitutivo ad essere adorato da tutte le genti ferite dal peccato l'epistola tratta la lettera di san paolo e colossesi ricorda bene come dio padre abbia costituito cristo re e signore principio della nuova creazione e capo del suo corpo la chiesa il graduale il versetto alleluatico riprendono testi profeticamente orientati a esprimere la sovranità eterna e universale di gesù cristo su tutti gli uomini e le creature secondo le parole del salmo 71 versetti 8 11 egli dominerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra e lo adoreranno tutti i re della terra e tutte le nazioni lo serviranno e da daniele 7 14 eterno è il suo potere che non gli sarà mai tolto ed eterno il suo regno che non andrà mai distrutto il vangelo giovanni capitolo 18 versetti 33 37 riporta il dialogo tra gesù e pilato che evidenzia il carattere spirituale e al tempo stesso assoluto della regalità del messia la sua origine ab eterno e il suo fine i medesimi accenti presenti nei canti interlezionali ritornano nell'antifono all'offertorio e alla comunione la secreta super oblata la preghiera sulle offerte esplicita al meglio il contenuto della colletta e a questo scopo orienta il divino sacrificio poiché sull'altare ancora lo stesso signore gesù a immolarsi sacramentalmente per la salvezza del mondo ecco che si prega perché questo sacrificio in cui cristo unitamente sacerdote vittima propizi quei doni che solo lui può concedere cioè l'unità del genere umano e la pace se questi due preziosi doni si cercano lontano o senza gesù cristo sembra dire la presente orazione si sbaglia strada e si apre il cammino a un banale quanto instabile pacifismo o irenismo fondato solo sul compromesso ti offriamo signore la vittima dell'umana riconciliazione tu fa che lo stesso che offriamo col presente sacrificio conceda a tutti i popoli i doni dell'unità e della pace gesù cristo tuo figlio e signore nostro da ultimo il post comunio quasi come una grande costruzione d'anello ci ricolloca nel paradiso come nell'antifona all'inizio della messa questa volta però non più come visione ma come speranza del fedele che dopo aver militato sotto il vestito della croce anela a vivere e regnare col suo signore nell'eternità beata dopo aver ricevuto questo alimento di mortalità ti preghiamo signore affinché quanti ci gloriamo di combattere sotto le insegne del cristo re possiamo regnare per sempre nella celeste di mora con lui questo in fondo compendia benissimo il fine dell'esistenza di ogni uomo che lo sappia o no è fatto per vedere dio perché da dio proviene certamente a tal fine necessità di mezzo l'appartenenza alla chiesa cattolica e la professione della vera fede almeno col desiderio alla diffusione delle quali è chiamato ogni buon soldato di cristo con la preghiera con le parole e con le opere ciascuno secondo il proprio stato tutto il senso della festa trova ammirabile sintesi teologica del bel prefazio composto appositamente per questa solennità che si fa meditazione sprune e speranza è veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te signore padre santo dio onnipotente ed eterno tu con olio di esultanza hai consacrato sacerdote eterno e re dell'universo il tuo unico figlio gesù cristo nostro signore egli sacrificando se stesso immacolata vittima di pace sull'altare della croce operò il mistero dell'umana redenzione assoggettate al suo potere tutte le creature offri alla tua maestà infinita il regno eterno e universale regno di verità e di vita regno di santità e di grazia regno di giustizia di amore e di pace vuoi informarti informarti e orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org www.radionomalibera.org